Si terrà a questo fine settimana la 34esima mostra mediterranea presso il porto turistico di Pescara. Questa mattina alla Camera di Commercio sono state presentate le traboccanti novità. Restyling sia nella disposizione della mostra mercato che nei contenuti. La mostra, che avrà luogo venerdì, sabato e domenica, metterà in risalto i prodotti enogastronomici abruzzesi, dal vino alla street food. Tra conferenze, premi e cookie show l'obiettivo è deliziare anche il palato dei turisti. Insomma quest'anno mettiamo insieme le tipicità con il turismo.